Buona serata a tutti amici, non ho più voce, non ho più sensazioni, perché le ho provate tutte nel Gran Premio e che primo Gran Premio della stagione di Formula 1 2022 è finalmente il bis della Ferrari 1-2 Leclerc Sainz è davvero il peccato più mortale quello della Red Bull che nonostante erano considerati numerosi sorpassi e controsorpassi tra Leclerc e Verstappen in primis Leclerc e poi purtroppo anche Perez hanno dovuto ritirarsi dalla gara per problemi alla monoposto e nonostante le mie gufate alla Mercedes ma non c'è stato niente da fare ma l'importante è che da questa partenza la Ferrari traccia un buon solgo, un buon terreno per dire che noi ci siamo, siamo tornati, vogliamo e dobbiamo essere protagonisti in questa stagione di Formula 1 2022 dobbiamo dare del filo da torcere alla Red Bull e alla Mercedes e quindi cari ragazzi e amici 1-2 Ferrari Leclerc Sainz noi ci vediamo nei prossimi affondamenti e forza Ferrari au ciao